Eri Divisie Eri Divisie, vincono Ajax e Feyenoord, respira il Dey Nag. Torna al successo il Vitesse Poche sorprese, in questo sabato di Eri Divisie. I quattro anticipi del quarto turno del campionato più tecnico d'Olanda, infatti, non regalano botti inaspettati, confermando quanto visto nelle prime uscite stagionali. . Sempre capolista e sempre più squadra da abbattere, non sembra fermarsi il cammino del Feyenoord Rotterdam, che pur senza cui non accenna a mollare di un centimetro, schiantando il malcapitato Eraclè Salmelo per 4-2. . Nonostante il pubblico avverso, i campioni in carica mettono il Turbi già nel primo tempo, trascinati da Berguis e Boetius, che in 11 minuti confezionano tre reti. . Nella ripresa, i bianconeri salgono in cattedra, accorciando inutilmente grazie ai gol di Niemeijer. Nel finale, cè spazio anche per uno rigore di Larsson. . Sontuoso 0-3 anche per il Vitesse, che si riprende dalla sconfitta dellultima giornata battendo senza troppi problemi il povero ex-Celsior. . . Gli indomabili gialloneri, in rete grazie a Castagnois, imprimono il proprio marchio al match nella ripresa, guidati dall'inossidabile Tim Matase e dal tristargato Linssen. . Importante, poi, la riscossa del Den Haag, che conquista i primi tre punti stagionali superando un Willem 2 in piena crisi ed ancora a secco di punti. . 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